Grazie a Tic Tic Boom, il primo film da regista di Lin-Manuel Miranda, approdato su Netflix nel novembre del 2021, si ripercorre, si onora e si omaggia la vita del grande Jonathan Larson, autore di musical, compositore, attore, che sicuramente in tanti ricorderanno per aver dato vita a Rent, uno dei musical più famosi e belli di Broadway, nei suoi testi, nelle sue opere si parlava spesso di temi delicati come la tossicodipendenza, il tema della multicultura, poi erano gli anni 90, il periodo in cui purtroppo si scopriva l'AIDS, in cui l'HIV provocava un sacco di morti, proprio amici del nostro Jonathan. In questo caso Lin-Manuel Miranda ripercorre e fa rivivere a noi spettatori la vita e l'ascesa del nostro Jonathan Larson, quando da semplice cameriere, amante della musica, che cercava di proporre il suo musical superbia, senza però avere i risultati sperati, riuscirà poi a sbarcare il lunario e diventare quel compositore, quell'autore, che troverà successo in tutto il mondo, prima con Tic Tic Boom, questa sorta di spettacolo autobiografico in cui, come un moderno stand-up comedian, il nostro protagonista sul palcoscenico raccontava al pubblico la propria vita, in maniera sicuramente ironica, ma cinicamente ironica, alternando momenti molto difficili di essa a momenti più scansonati e sapendo amalgamare il tutto con quello stile, con quella audacia e quella anche speranza nel parlare di certe cose, sperando che il pubblico potesse comprendere piuttosto che giudicare. Ecco che il nostro Jonathan Larson in questo film è interpretato da un bravissimo Andrew Garfield, un attore che a me è sempre piaciuto, che purtroppo in tanti conoscono esclusivamente per Spider-Man. E per quanto mi sia piaciuto in tal ruolo, indipendentemente dalla riuscita o no dei due di Amazing Spider-Man, io vorrei ricordare a tutto il pubblico che Andrew Garfield ha girato anche altri film. Uno fra tutti, La battaglia di Exon Ridge, di Mel Gibson. Io non so se l'aveste visto, però ecco, Andrew Garfield è un attore che ha dimostrato più volte di essere capace e secondo me anche stavolta conferma quanto sia versatile, ma soprattutto stupisce perché ha una bellissima voce ed è realmente credibile nei panni di Jonathan Larson. Il film vuol proprio raccontare la sua vita nel momento in cui il nostro protagonista stesse per compiere trent'anni, trent'anni nel 1990. Questi trent'anni che si raggiungono con tanta ansia perché comunque si lavora come camerieri ma non abbiamo ancora un lavoro fisso, non abbiamo ancora sbarcato il lunario in quanto il nostro protagonista vorrebbe senz'altro diventare autore di musical, vorrebbe avere successo con questo scritto futuristico superbia che vorrebbe mettere in scena, vorrebbe presentare ai produttori, vorrebbe far sì che qualcuno ci credesse in quanto, come potrei definirlo, superbia? In quanto elaborando una versione futuristica di 1984 di George Orwell vorrebbe parlare di temi importanti, di temi particolari veicolando dei messaggi. In un contesto difficile, in un periodo, ripeto, in cui molto spesso anche affrontare determinate argomentazioni non era certo semplice, non da tutti si era compresi e quindi lui dovrà prepararsi, dovrà prepararsi perché allo scoccare dei trent'anni avrà anche il suo primo workshop, un workshop dove parteciperanno produttori, dove parteciperà la sua gente, dove parteciperanno persone importanti nella sua vita proprio per presentare questo musical, sperando dopo anni e anni che ci lavora, alternando il suo lavoro come cameriere, sperando che qualcuno possa crederci, sperando che qualcuno gli possa telefonare pronto a produrre ciò che mostrerà in questo workshop, con la consapevolezza però che manchi ancora una canzone, che stia finendo il tempo eppure lui in pochi giorni deve scrivere una canzone importante per il secondo atto e quindi la sua vita sarà continuamente costellata di imprevisti, la sua è una corsa contro il tempo, un tempo che in continuazione sembri sempre ripetere un tic, tic, prima del boom finale che farebbe realmente mandare all'aria tutto e quindi lui prima di questo scoppio, prima di questa esplosione deve riuscire a portare a termine questa canzone, a scriverla, a presentarla per il workshop, a far sì che le persone sicuramente abbiano fiducia nel suo lavoro ma allo stesso tempo deve gestire anche il proprio lavoro come cameriere, deve gestire la sua relazione perché i rapporti con la fidanzata tendono anche un po' a incrinarsi dal momento in cui anche lei è una stimata ballerina che avrebbe potuto aver tutto dalla vita ma purtroppo dopo un infortunio è costretta a diventare massimo massimo un insegnante di fidanza e quindi riceverà un lavoro, un lavoro che la porterebbe lontana da New York e quindi si può lasciare il posto dove si abita, si può sicuramente in un periodo così difficile in cui si cerca di affermarsi dire ok volto pagina e vado da un'altra parte quindi il nostro protagonista si ritroverà ad affrontare delle situazioni complicate alla soglia dei 30 anni in cui sotto sotto non vuole accettare l'idea di aver fallito, non vuole accettare l'idea di di non avere ancora quell'indipendenza che magari i suoi amici hanno rifiutando anche ai propri sogni pensiamo al suo miglior amico che sarebbe voluto diventare un attore ma che purtroppo poi guardando in faccia la realtà capisce che non c'era la possibilità di diventarlo e quindi si è sottoposto a diciamo alle regole di questa vita molto spesso anche dure e quindi è diventato un pubblicitario. Il nostro Jonathan Larson però a tutti i costi vuole dimostrare di riuscirci perché la sua vita e la musica riesce a comporre brani anche guardando un bicchiere pieno d'acqua oppure mettendo lo zucchero nel caffè quindi in continuazione lui compone 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 ha una creatività immensa ed ecco che Lin Manuel Miranda riesce a sorprendere grazie ad una regia assolutamente curata in cui ovviamente si canta in cui ovviamente si balla in questo film dove l'aspetto musicale è al centro di tutto quindi nel caso non apprezzaste i musical sappiate che vi trovereste di fronte ad un musical ad un musical che sappia regalarci ottime canzoni ottimi adattamenti che sappia farci venire la voglia di ballare ma che allo stesso tempo sappia anche commuoverci perché ripeto il film parla di temi molto delicati si parla dell'HIV si parla del tema dell'omosessualità si parla proprio della tossicodipendenza si parla di vari temi importanti che in questo film vengono trattati e che vengono raccontati anche con un piglio molto positivo in quanto non bisogna farsi abbattere da qualsiasi problema che si possa trovare nel cammino della vita e secondo me Andrew Garfield è perfetto per il ruolo è stato veramente bravissimo risulta credibile risulta tra l'altro anche un ottimo cantante e devo dire che l'immanuel miranda in due ore riesce a intrattenere a coinvolgere a divertire a emozionare e sicuramente quando il film finisce ti resta il groppo in gola pensando a tutto ciò che avrebbe potuto fare ancora nella vita il nostro jonathan larson a tutto ciò che avrebbe potuto dare per l'arte ma invece purtroppo si sa che ahimè una brutta malattia lo abbia colpito e che non gli permetterà nemmeno di vedere la prima del suo rent dopo anni e anni e anni di lavoro io ad esempio non conoscevo bene la vita di jonathan larson per quanto conoscessi il musical rent che purtroppo non ho mai visto eppure anche in italia è arrivato in tutto il mondo per quanto non conoscessi bene la vita di jonathan larson avevo proprio bisogno di un film di questo tipo che me la facesse ben conoscere che mi facesse aumentare il desiderio di informarmi sulle sue opere di andare a cercare video anche su youtube in cui magari vederlo all'opera durante i titoli di coda come in ogni biopic che si rispetti si mostrano momenti e frammenti della vita vera del nostro protagonista specialmente durante la messa in scena del vero tic tic boom ed effettivamente andrew garfield gli assomiglia andrew garfield riesce ad impersonificarlo nel migliore dei modi quindi non posso far altro che complimentarmi con l'immanuel miranda perché alla fine parliamo di un compositore di un autore di un ballerino e di un attore che racconta la vita di un autore di un compositore di un attore quindi allo stesso tempo chi meglio di l'immanuel miranda avrebbe potuto raccontare questa vita tra ascese e discese di jonathan larson lo fa bene e sinceramente il film è anche un invito a non mollare è un invito a credere in se stessi a credere nei propri sogni ma come ci diceva rochi con la consapevolezza che nessuno colpisca forte come fa la vita quindi comunque saperla affrontare questa vita si raccontano qua gli anni 90 e si racconta anche la voglia di un autore di sapere andar contro il pregiudizio sapere andar contro anche il pensiero politico che ignorantemente attanagliava il pensiero collettivo delle persone in tal periodo in cui politici alla televisione magari sostenevano che se non ci fossero omosessuali non esisterebbe l'ids quindi far sentire la gente in colpa non capire quale fosse realmente il perno del problema il punto focale del problema e quindi l'arte come elemento salvifico l'arte veicolata attraverso jonathan larson come elemento di salvezza attraverso i suoi scritti le sue opere chissà come avrebbe affrontato il mondo di oggi il nostro jonathan larson chissà cosa ci avrebbe potuto regalare e quanto la sua follia genialità e irriverenza avrebbe potuto scardinare qualsiasi aspetto marcio di un sistema in cui viviamo che molto spesso ci lascia veramente basiti quindi non posso far altro che complimentarmi con l'inmanuele miranda con tutto il resto del cast quindi andrew garfield vanessa agenz vanessa agenz per magari chi è cresciuto per chi magari è cresciuto con gli high school musical io ricordo quando da ragazzino vedevo high school musical e quindi torno a vedere cantare la nostra vanessa agenz che è una bravissima attrice abbiamo alexandra ship abbiamo robin de jesus c'è anche bradley whiteford nel ruolo del famoso produttore steven sondheim che sarà molto importante nella vita del nostro jonathan larson ci sono delle canzoni ad esempio quella che il nostro jonathan larson dedica al suo amico michael quando scopre che purtroppo ha contratto l'hiv che è realmente commovente e poi ci sono dei momenti in cui si alternano invece delle canzoni molto allegre molto spigliate penso la canzone sunday no della domenica in cui lui si ritrova immerso tra le richieste dei clienti alla tavola calda quando dovrebbe scrivere la canzone quando il workshop si avvicina quando dovrebbe parlare con la fidanzata della proposta che lei è stata offerta quando dovrebbe andare a trovare l'amico malato in ospedale quindi è un film in cui tutti ci si può immedesimare ci si può immedesimare una persona come me che nella vita ha studiato per fare l'attore ma che purtroppo vede sempre più difficile la come si può definire la riuscita del proprio sogno in quanto sappiamo come ci insegna jonathan larson quanto possa essere difficoltoso in un mondo in cui non sei l'unico a voler fare questo mestiere ma siete in tanti quanto sia difficile gestire l'agenzia no che dovrebbe tutelarti però solo quando se ne ricorda quanto è difficile gestire le situazioni sentimentali quanto intanto è importante trovarsi un lavoro per mantenersi ma che magari ti toglie tempo per la propria passione quindi è un film che parla di un autore parla di un compositore ma alla fine parla di tutti noi ed è importante vederlo è stata realmente una sorpresa ha recuperato in ritardo questo film perché è uscito nel 2021 io me lo sono visto nel 2022 però meglio tardi che mai in vista anche del futuro video sul meglio e sul peggio del 2021 me lo sono visto non starò a fare parti spoiler in quanto vi ho già detto tutto in quanto si sta parlando di una storia vera in quanto non è che abbia niente da non rivelarvi per non per non compromettervi la visione sicuramente potreste conoscerlo meglio di me anzi io mi pento di non averlo conosciuto in maniera più approfondita prima di vedere questo film realmente bellissimo e che secondo me vi farà battere il cuore quindi tic tic boom un film che davvero ha saputo sorprendermi disponibile su netflix il mio augurio è che possa uscire anche in home video così da poterlo acquistare ma la vedo molto dura quindi vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social che potreste che potreste abbonarvi al canale perché se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana ma che per di più potreste anche farmi sapere la vostra nella sezione commenti perché così ne discuteremmo insieme tic tic boom un gran film un grande andrew garfield mi raccomando non è solo spider-man guardatevi altri film con lui protagonisti ve ne ho consigliato uno la battaglia di axon ridge ma ce ne sarebbero anche altri e poi fatemi sapere la vostra un caro saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao